I desideri sono così potenti! Se vuoi davvero qualcosa e disegni un po', puoi farlo avverare! Wow! Il mio quaderno fa avverare i desideri! La soffitta della nonna è piena di segreti! Via libera! Saliamo! Tutto questo è così interessante! Voglio guardarmi intorno! Ci sono così tante cose belle! Ma non voglio toccare tutto! È polveroso! Diamo un'occhiata a quel baule! Deve essere pieno di tesori! Un vecchio libro? Più che altro un diario! È pericoloso! Con delle foto così carine! Non credo proprio! Ma cosa sono? La matita è ovviamente lì per una ragione! Dovremmo disegnare qualcosa? Oh, vorrei avere delle caramelle! Oh, guarda! Caramelle! È stato veloce! Che ne dici di raddoppiare la posta? Wow! Funziona! Questo quaderno è meglio di qualsiasi tesoro! Se puoi permetterti tutto, cosa vorresti? Lo so, lo so! Cosa vogliono le ragazze? Cibo gustoso, ovviamente! Un sacco di cibo! Beh, dov'è? Ups! Come siamo arrivate qui? E dov'è il cibo? Eccolo! Credo che questo tavolo sia per noi! La vita è fantastica! Quante cose deliziose! Probabilmente saremo così piene! Si potrà desiderare di mangiare qualcosa senza sentirsi male? Delizioso! Bene, abbiamo mangiato! Ora esprimiamo nuovi desideri! Cosa mi piacerebbe? Qualche prodotto di bellezza? Troppo semplice! Che ne dici delle Maldive? Ma non è divertente! Solo in due! E se desiderassimo degli amici? Wow! Siu ha in mente qualcosa! Andare alle Maldive con un fidanzato sarebbe fantastico! Penso sia figo! Ma dov'è? Ciao ragazze! Wow! Non ci abitueremo mai a questo! È bello, ma gli manca qualcosa! Dovremmo disegnarlo? Sì, certo! I baffi lo faranno sembrare macio! I baffi? Beh, che ne pensi? Ti stanno bene? Non male! Ma ti manca ancora qualcosa! Occhiali! Per farlo sembrare serio! Sì! Ora sembra intelligente! Ora aggiungiamo... Oh, dai! Non esagerare! Eccoci di nuovo a litigare per un ragazzo! Ho cancellato la sua testa! Ups! Che gli succede? Oh, cavolo! Scusa! Non credo tu ci senti! Già! Brutta idea! Noi amiamo lo shopping! Wow! Bel vestito! È davvero bello, ma... Non possiamo permettercelo! Questo è tutto ciò che abbiamo! Facciamo le cose per bene! Sarà facile da disegnare! Una borsa dovrebbe essere sufficiente! Aspettiamo! Eccola! Più grande di persona che nella foto! Quanti soldi conterrà! Oh, ma non c'è niente dentro! Che brutto scherzo! Non è giusto! Devo aver sbagliato disegno! E se disegnassi qualcos'altro? Voilà! Ecco soldi! Disegniamone di più! Piovono dei soldi! Siamo ricche! Quanti soldi! Questo diario è un vero miracolo! Forza! Andiamo a prendere il vestito! È una bellissima serata! Ma penso che possa migliorare! Yes! Certo! Ma come? Poi gli prende in mano la situazione! E Sue coglie subito l'idea! Aha! Dobbiamo essere famose! Ora saremo popolari! Wow! Siamo sul palco! Dobbiamo suonare qualcosa? Oh, facciamo del nostro meglio! Peccato che il talento non sia arrivato insieme all'attrezzatura! Che schifo! Andate via! Perdenti! Beh, valeva la pena tentare! La carta è meglio dei pomodori! Ma ci serve un ombrello! Per fortuna disegnate velocemente! Va bene! Lo spettacolo è finito! Andiamocene! Cos'altro posso desiderare? Oh, sono stufa di avere gli occhiali! Oh, giusto! È da tempo che Sue vuole liberarsene! E ora ha la sua scusa perfetta! Perché Sue non ci ha pensato prima? Andiamo a conquistare il mondo! Wops! Il mondo non è facile da esplorare senza gli occhiali! Aspetta! In realtà... Ha davvero bisogno degli occhiali! Cosa stai facendo? Polly, ridammi gli occhiali, per favore! Qualsiasi cosa per te! Fatto! Che si faccia luce! Ah, ora può vedere di nuovo! Un servizio fotografico per l'annuario è un ricordo che dura tutta la vita! Vieni, non essere timida! Come faccio a rilassarmi? Ma un fotografo esperto troverà un approccio a qualsiasi modella! Penso che i ritratti normali siano noiosi! Oh, Sue è in vena di scherzi! Basta un po' di baffi per renderlo indimenticabile! Oh mio Dio! Chi è quello? A Polly non piace proprio! Accidenti! Facciamo altri scatti! Il desiderio del cliente è legge! E ora... Un nuovo scherzo! Ah! Corna! Qualche altra foto, per favore! Almeno un centinaio! Perché Sue ha molte altre idee! Una maschera? Ma che succede? Credo che dovremo rimandare il servizio fotografico! Quando hai i capelli corti, vuoi sempre che crescano più velocemente! Beh, perché non disegnarlo? Un po' di più... Lunghezza perfetta! Evviva! Ora posso sperimentare stili diversi! Ma non esserne troppo felice! Ups! Sembra che Polly abbia deciso di pareggiare i conti per il servizio fotografico! Che ne dici di trecce super lunghe? Ora è esilarante! Uh! È ora di andare! Qualcuno non ha apprezzato lo scherzo! Perché? Ero quasi pronta! Polly ha un appuntamento! Devo apparire al meglio! Ma non ho le scarpe giuste! Ecco una nuova idea per il diario! Un nuovo paio di scarpe! Evviva! Adoro questo quaderno! Un appuntamento, eh? Hai bisogno di un tacco più alto per quello! Yes! La sua amica fa di nuovo i capricci! Oh! Polly non era pronta per questo tipo di scarpe! Ah! Quelli non sono i miei tacchi! Ora tutto ha un senso! Bene, Sue! Guardati le spalle! Devo vendicarmi! Chissà cosa hai in mente! Un delfino? Immagino che possa funzionare! E cosa sto disegnando? Un tatuaggio strano è perfetto per dare una lezione a una burlona! Cos'è? È così invisibile! Quel tatuaggio deve sparire subito! Oh no! Non posso aiutarti con quello! Dammelo subito! Questa è una lotta seria? No! Ridammelo! Wups! Era il destino che succedesse! E come faremo a vivere senza il nostro diario? E ora che faccio con questo? Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Ti piacerebbe avere un diario come quello? Quale sarebbe la prima cosa che ci disegneresti? Scrivilo nei commenti! Metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella! Per non perdere altre storie divertenti su Troom Troom Select!